Il romanzo familiare è la famiglia appunto al nucleo della storia e Francesca Archibugi è stata veramente eccezionale nel raccontare la verità dei rapporti che ci sono all'interno della famiglia, madre, figlia, moglie e marito, figlia e padre, che sono rapporti dove si sono fatti tantissime cose, anche spesso in contraddizione tra di loro, che cambiano, che si evolvono, che sono fatti di scontri terribili ma anche di passione, di gelosie, di riavvicinamenti, di affetto, di amore e tutte queste componenti sono presenti all'interno della nostra fiction.